I shout down the dance like We rock down the dance like I be the one day love I be the done Sto male, cioè sto male raga Fare questo video sono troppo contatto Mi sono cresciuti i cappelli in a cifra guardate Cioè mi arrivano qui e sto male Allora ovviamente sono stata in vacanza E poi è giusto che vi faccia il video delle vacanze Adesso sono un po' sbattutina Perché mi sono appena alzata Allora questo è un video collaborazione Che ci teniamo una cifra a fare Perché raga sto male Cioè raga sto male Questo sarà il titolo del video perché veramente Allora una collaborazione che aspettavo da tantissimo Mi scuso con quelli dell'azienda Perché ovviamente ero in vacanza E quindi non l'ho fatto subito Quando è arrivata mia nonna e mia mamma Stracuriose vi dico che hanno aperto tutto Perché lo volevano loro E niente cosa vi posso dire Che aggiornamento brevissimo Sta andando tutto benissimo Sono appena andata dalla sarta Per far sistemare dei pantaloni Perché sabato vado a ballare E venerdì pomeriggio vado alla parrucchiera Ragazzi sto male È mille anni che non vado alla parrucchiera Ok Allora niente Saluto California Cree e Georgia Cioè The Alternative Makeup Mando due bacioni enormi Perché mi hanno ospitato sto male Quando parlerò di loro Piangerò E parliamo di un sito Che allora Io mi sono iscritta Su Whatsblog È praticamente Un Un social Che consiste nel raggruppare Tutti i tuoi iscritti Tutti i tuoi follower E trovarti delle Delle collaborazioni Io ho visto questa raga Mi sono innamorata Ho chiesto subito la collaborazione Me l'hanno accettata Quando me l'hanno accettata Volevo morire di infarto Embolo Ciao Ah sì Poi vi racconterò che ieri Se la sono caduta Lasciate perdere E quindi Allora Non mi hanno dato nessun budget Era un prodotto Io ho preso questa Mamma sto male Mamma sto male Il mio assistente Mi ha aiutato ad aprirla Allora è arrivata Io non so come è arrivata Me lo stanno dicendo gli altri Perché Aspetta Stai fermo Eh Ah sì un attimo Però mi devi passare prima quello Allora Fermo eh Vediamo se c'è scritto Magari il sito Direttamente che è fuori No comunque un pacchetto proprio Classico Poi sì però Sì sì no non è quella Poi ovviamente Nella bustina Che qualcuno ha rotto Vabbè Poi in un'altra bustina ancora Cioè tutta incelostanata così E ancora in una busta così Cioè proprio mega mega No quelli lasciali dentro Cioè raga Piango eh Guardate che piango Con lo special Sì vai passamela Allora Il modello Parliamo prima del modello Della borsa Allora Fino in giù una borsa nera Bellissima In pelle Scusate ecologisti Ma io adoro le cose in pelle Perché hanno una qualità maggiore Spassati un po' Plicks Grazie mille Allora Come potete vedere Che cazzo era Bello Prendo sky Come potete vedere Il modello è Selene Per farvi capire Poi è Pelle vera Ovviamente non è pelle Di qualità Sto male Però Ma che cazzo Aspettate che me lo sistemo Perché se no Vivo male Avrei voluto truccarmi Come una pazza Per fare il video di questa borsa Perché lo meritava Però purtroppo Non ho i trucchi No no amore No lasciali dentro Cosa fai? Devo far vedere tutto bene Allora Qui attaccato avanti C'è la garanzia Che è pelle Però con questa cazzo di tenda Non si vede bene Vabbè Allora Perché mi picchia il sole contro E si vede male Ok così Questa è È la garanzia della pelle Ma È molto È profuma di pelle Poi A parte che è grande Cioè è enorme raga Vi faccio vedere cosa ci sta dentro Poi vi dico anche il sito Cioè Questo C'è questo pacotto di roba Dopo buttiamo tutto nel bidone E quest'altro pacotto di roba Ragazzi Cioè a parte tutto La spaziosità di questa borsa Poi comunque faccio le riprese da vicino E ve le metto a fine video O a inizio video Vedo Ci sono una casa grande come questa Sì no raga Cioè è una roba immensa Da lì non lo vedete Un co senza fun Amore dovresti andare a prendermi le forbicine Se sono ancora sul tavolo Grazie Perché la cambio subito Ce la uso subito Perché io la amo Nonostante sia invernale Frego un cazzo L'unica cosa è che devi prendere la piega Da star fuori Perché a me piace l'arga Cioè mi piace proprio Che sia Allargata A A modi Allargata Ok E niente appunto Il sito che Allora Il tramite è Whatsblog Quindi se avete dei social Avete un tot di iscritti Vi consiglio di iscrivervi Non erano sul tavolo Ma li aprimiamo Grazie amore E Il sito che invece Cordialmente Mi ha Mi ha Mandato Thank you so much For this bag I love it E Louv Cioè ve lo dico in italianizzato Louv 21 .com Cioè Louv 21 .com Ma comunque sia Grazie all'aiuto del mio fido assistente Ve lo scriverò qua sotto Io so come fare Esatto Lui sa come fare Vi scriverò lì sotto appunto Come Cioè il nome esatto del sito E vi consiglio di andare a vedere le borse Perché Hanno una qualità Raga Cioè è pelle Non è Non Sono comunque borse Che fate un Comunque un acquisto Di un certo Lì Spendere mille euro No amore Questa è la mia testa Ecco Non dovete spendere mille euro Però è una È un Tra virgolette un investimento Perché Una borsa di alta qualità Vi vale Vi dura di più Cioè poi è incarattata proprio benissimo Nel minimo dettaglio Anche Piro lì sotto Sto male Ma questo poi è la È il modello di borsa Che volevo io Comunque dopo vi faccio bene Le riprese Sto male dopo la riempio subito Questo bene ancora È da far così In caso si vuole mettere quadrata Però a me piace di più aperta Logicamente Sì Ma è bellissima raga Alla cerniera Al taschino dentro Ma a tutte le Vedete chiusa com'è Non ha la tracolla Ecco quella è una cosa Che dovete tenere conto Perché Per a chi piace Per chi piace Per chi Per quelli a cui piace Tenere le borsa a tracolla Non c'è Però a me non interessa Perché io la adoro Cioè sto male Bellissima La borsa della mia vita Bellissima Quindi io approvo Cioè Paola ciao Approved È bellissima La qualità è fenomenale Dopo ve la riprendo bene Nel dettaglio Posso fare una cosa Ve l'ho già detto mille volte Dimmi Dimmi Fabi J Ok E niente appunto Ringrazio immensamente Questo sito Perché è veramente top In caso ci fossero degli sconti Io non mi sono ricordata Perché sono un po' loca Per voi In questo sito Ah non ho pagato niente Di Dugana Né un cazzo Ve lo dico Vi lascio tutto Nell'info box E nulla Cioè io sono stramega felice Non vedevo l'ora Di farvi il video L'ho fatto anche in ritardo Tra le altre cose Poverini Non vedo l'ora di farvi il video Il mio quale Da tanti che non lo vedo E sono andata Quattro volte La sveglia Per farla svegliare Vero Perché ero stanchissima E nulla E ringrazio il sito Per aver accettato La collaborazione con me Se ce ne fossero altre Sono felicissima Perché questa borsa È tutta la mia vita Penso che vita materialista Vabbè E niente Vi faccio vedere Che sono caduta Non si vede No non si vede Non si vede Eccolo Ciao male raga Che voi non potete capire Sembra un bianchino Però Nelissimo Nella vita Cioè In questo sito Non è che si vede Di tanto Ma è nirissimo Ho mille punti di zanzara Ok Niente Io spero che la borsa Vi sia piaciuta Se vi è piaciuta Scrivetemi Stupenda e meravigliosa Unicone in casa Vi mando un mega kiss Tra poco Devo fare ancora Due collaborazioni Ragazzi Sono indietrissimo Scusate se vi faccio Solo video di collaborazioni E non faccio video Dove parlo come una Scema pazza Come sono io Però Nulla Ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti